ciao scorpione benvenuto sul mio youtube canale beauty master of scorpio benvenuto su questa lettura per l'amore fino alla fine 2023 ti chiedo scorpioncino mio devo far forzare questa lettura se non ti corrisponde questa è una lettura generale se vuoi una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio info box adesso iniziamo vediamo cosa succede per l'amore se è una luna nascendente un venere qualunque pianeta su questo segno questa lettura può far per te iniziamo ma loft in datemi per il mio scorpione cosa si può aspettare il mio scorpione di nuovo il sole ma stia scherzando come ieri e il toro toro sotto il mazzo ok il sensuale qualcuno è intrigo intrigato a te o tu sei intrigato a qualcuno tutte e due è l'opposto come che come che mi dici sì non mi aspettavo che mi potessi piacere o che li potessi piacere e perché ho posizione andiamo dammi per favore per la numerologia rest regenerate anche tu ma stai scherzando spiritualità 4 e 9 ma io le sto mischiando e anche ieri era stessa mi sbaglio e ritorno in inglese non mi ricordo ha finalmente la luce 19 ok allora numerologia 19 9 28 e 4 32 porta un 5 può essere un grado può essere un giorno può essere un numero significante 49 19 e 5 di nuovo 5 wisdom sì qualcosa sta cambiando qua è come che non vuoi vedere però e se costretta a vedere vedere o la vedi ma non la vuoi vedere e invece ti mette proprio in evidenza scoppione di vederla ti mette proprio in evidenza guarda la c'è davanti a te devi guardare non guardare via non so di che vediamo però sei tu la destinata a guarda a vedere se la sei la prescelta di guardare perché tu puoi farlo anche se anche se non vuoi guardare anche se no io non voglio guardare non voglio guardare per esempio io odio 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 veramente non sopporto il film horror film horror odio datemi cartoni io amo spongebob datemi cartoni film romantici sono una romanticona nata e non lo so anche i film che fanno ridere no a comici comici ma non mi date thriller horror oh my action no non me le date io voglio vedere voglio voglio essere bimba una cosa così mi viene ma sai come tu ma devi guardare ma non voglio guardare invece devi c'è qualcosa che devi guardare vediamo allora getting to know each other devi guardare proprio a quella cosa a quella persona soulmate l'anima gemella you deserve love reconciliation riconciliazione ok puoi essere scorpione non so se vuoi nel passato già vi siete con una persona importante per la tua vita nella tua vita non so se hai avuto già una riconciliazione con questa persona però è com'è che io la sensazione scorpione adesso può essere che è un po strano a sentirsi sentirsi lo dire ma può essere che non ti sei che può essere che tu ti sei sentita che come si dice può essere che hai pure che ti sei riannamorata rinnamorata di questa persona però alla fine non è che ti sei rinnamorata di questa persona si sei rinnamorata al pensiero alle memorie che avevi con questa persona quando ci si separa scorpione tante volte ci si rivede dopo tanti o tanto tempo anni e la rivediamo quella persona tante volte pensi qua mi sto rinnamorando e la maggior parte della psicologia della delle persone e quando tu invece ti ricordi ai bei momenti passati con quella persona adesso sta a te a vedere cosa ti sei rinnamorata di quella persona se c'era un riconciliamento già nel passato o se ti sei adesso riconciliata di cose che ti stai innamorando del ricordi dei ricordi dei primi della prima volta che eravate insieme o ti sta veramente rinnamorando di quella persona per quella che io dico sempre quando ci si riconcilia dobbiamo anche essere molto onesti con lo stesso perché non è funzionata e da molti difficile a vedere ma di essere sinceri no ok allora iniziamo con la lettura vediamo ma l'oftim datemi per favore per il mio scorpione due di bastoni per il passato l'asso di spade l'imperatore cosa si può aspettare scorpione il ragazzo di denari raggine di coppe wow il re di bastoni hai c'è c'è qua una decisione da prendere il passato c'era una decisione da prendere se non so che decisione presa però è come che dovevi sapere guarda hai tu la scelta dici di tu non so di cosa ancora adesso la scelta la vedi e se molto molto chiara perché metti delle situazioni nella tua vita in questo momento che dai priorità belle o brutte però dice almeno quella è sincera come come te la presenti no come ti presenti una persona per esempio non lo so la bella e la bestia di no porti sui miei cortari animati le favole la bella e la bestia la bestia la bestia la prima volta che la principessa l'ha vista questa bestia si era spaventata ma tu dove spunti ma io mi aspettavo un principe però alla fine la principessa si era anche innamorata della bestia della persona dentro che era bella brutta fuori alla fine la principessa si era innamorata di questa bestia e alla fine poi con il bacio quel vero bacio la bestia si è trasformata e si è ritrasformata nel vero principe perciò il destino o l'amore voleva dare fare vedere a tutte e due se veramente era amore o era solo attrazione perché la bestia è innamorata anche della sua bellezza della principessa però la principessa no perché questa era un doppio una doppia prova per la bestia che non era per come sembrava fuori no? e se tu mi dici dove è il morale? cosa c'è dentro? che stai cominciando a percepire che la bellezza non è tutto ma il dentro cosa conta tante volte noi siamo attratti di una situazione delle persone che io per esempio quando sono sull'instagram io vedo questi maschi, questi uomini ma tutti uno più figo del lato, scusatemi poi io dico, eh sì, è dentro che c'è? che c'è dentro? che c'è? chissà che ci sarà dentro può essere che la persona più brava e più buona in questo mondo a me cosa non piace è la vanità ecco la vanità, non la sopporto la vanità quando qualcuno si deve fare vedere io c'ho i muscoli, c'ho quello, c'ho quell'altro c'ho un private, c'ho la casa, c'ho diecimila macchine, c'ho la bellezza, c'è quello e dentro? dove sono i valori? io i valori cerco di una persona i valori, veramente i valori veri tu poi puoi essere figo, figo quanto sei tu ma dentro? chi ti ritrovi poi? monnizza? eh no la bellezza è bella per 5-10 minuti e poi lì dentro? e lo stai cominciando a capire l'imperatore per il futuro, il ragazzo di denari perché c'ha il re di bastoni sotto il mazzo e la morte sotto il mazzo anche perciò tu stai cominciando a capire una persona, una situazione che dici a fine a dove, fine a dove va la bellezza o la bellezza interiore iniziamo, dammi il 2 di bastoni la torre 9 di bastoni 4 di spade quando non vuoi credere a qualcosa uno ti dici no, questo non può essere cos'è quando vedi una cosa quasi così l'oreofant una cosa così bella però se non so di che bellezza sti sta parlando una cosa così bella poi dici ma questa non compace non come si dice non è non può essere non c'è una contraddizione c'è una contraddizione qua troppo contraddittoria non può essere che allora tu mi dicevi allora tu mi dici nel passato ma non può essere che è così una questa situazione o persona ma non so di cosa non lo stai dicendo è come dici no, diamoci tempo voglio vedere chiaro vorrei vedere chiaro non può essere non c'è troppo è come ho già detto prima o ti stavi contraddendo tu o qualcosa ti stavi cominciando a contraddire e poi dici non può essere che questa è veramente così con me e se la presenta così con me non so di che e nel passato avevi anche una potevi scegliere tu se volevi ancora guardare o andartene per la tua per una tassata quello può anche essere stava a te nel passato a decidere puoi stare anche se la vedi l'evidenza o te ne puoi andare perché la vedi l'evidenza sta a te quel quattro di sfade può essere che sia rimasta può essere che sia rimasto vediamo l'asso di spade per il presente l'appeso il tre di coppe e l'imperatore di nuovo dammi la gine di coppe per il generale la regina di denari no pensavo che ce l'avevo no era per l'inglese e l'imperatrice mamma mia wow la ruota è la fortuna ho tre femmine femminilità nel tuo generale e nel tuo presente ho due maschi sì due maschili la ruota è la fortuna aspettate scorpione non so se in questo momento questa energia che ti sta entrando sto vedendo una nuova energia nel tuo caso scorpione ok può essere non fa proprio nel tuo caso può essere un po' più matura o se anche più giovane di età però è matura di testa pure quello come dici voglio vedere che ha vorrei vederci chiare fammi fammi vedere un po' con me la situazione fammi un po' ma no spiare fammi non vuole interagire sub vediamo come ci si presenta ma non so di cosa ancora mi parli come ti dici c'è mi vorrei mi intriga però non so fino a qual punto perché tu mi dici come che vorresti prenderti più tempo per te WrestleRigionovate vorresti prenderti più tempo per te perché ti dai più amore a te stessa come che dici la priorità me la do a me stessa come dici non so se sarei pronta a dare questa priorità a questa persona a questa situazione te la prendi un po' comoda vabbè fa anche bene ma che te frega te la prendi un po' comoda fai bene perché dici non lo so se sarei adesso se metterei questa priorità perché non prima poi se tu dici facevo spaccavo volevo e me la portavo a casa invece adesso non ti vedo non ti vedo così ma io sto anche bene sola mi piace spendere tempo io per esempio amo spendere tempo per me stessa amo amo non devo ricontare non devo contare non devo rendere conto a nessuno certo quando i miei figli sono di torno ma per carità la cosa più bella di questo mondo come si dice ogni scarrefone è bella mamma sua no? certo quell'altra cosa però quando i miei figli sono dal padre io quel tempo per me me lo prendo mi coccolo me lo prendo tutto per me e faccio delle cose ma delle cose che io poi se con un'altra persona non le farei e faccio cose che in questo momento non te le aspetti perché so come coccolarmi so come viziarmi so cosa mi piace quanto sono tra me e Luana sono tra me e me stessa il mio il mio bambino la mia bambina dentro so cosa gli piace allora mi vizio c'è Luana grande e c'è Luana piccola no? e ci viziamo tutte e due è sempre un po' strano forse a sentirsi così però tu mi dimostri proprio questo è come dici ma non ma anche se non c'è proprio una persona fisica dici ma io non saprei neanche se in questo momento perché ti piace tu non dici mi piace stare da sola o ti cominci a prendere gusto ecco ti cominci a prendere gusto vediamo dammi l'imperatore che c'è due volte l'imperatore questo è grande nove di spade l'asso di coppe no la beva l'asso di genari otto di coppe sai perché cominci a a percepire che comincia a diventare seria questa cosa perché ti dai come già ti ho detto tu ti dai prima la priorità a te e siccome tu ti dai la priorità a te ti ami così tanto le cose che vieni come magnetica è come che sei magnetica perciò tu non prenderai più la spazzatura le spazzature da fuori che non fanno più per te perché tu mi dici come la bellezza può essere tanta bella questa persona ma tanta brutta dentro e non fa più per me io la voglio bella dentro e bella fuori anche sì certo bling bling no andiamola la voglio per quella che è la voglio anche se proprio non è la mia tipa o il mio tipo però quello che c'ha dentro è originale tanto originale non perché si deve mostrare per quello che non è allora siccome tu ti dai la tua l'aspirazione inizia da te Scorpione l'insperazione l'insperazione inizia da te Scorpione e questo è il futuro hai due assi due assi di coppa asso di denari e nove di spade e il quale imperatore ma stai scherzando ma tu stai a scherzando e l'imperatrice l'imperatore per questo fanno il match e qua c'è una volta l'imperatore fanno il match perché le stesse energie si attragghiano e può essere che tu nel passato dici no ma io la voglio così perché a me mi piace perché non lo so perché tu mi mostri che sei rimasta tu avevi la decisione potevi decidere entro o esco ma può essere che tu ti sei decisa di ancora rimanere alla fine ti hai messo in evidenza che questa situazione o persona era quello che si ripresentava però poi tu non dici ma tu sei cattivo tu ti sei dimostrato per quella persona che sei no io sono rimasta io sapevo che potevo decidere e anche se dimostravo questa persona una situazione brutta come era dentro io sono rimasta per i cavoli miei perché mi faceva comodo capite cosa voglio dire con Scoppione perciò tu stai cominciando a essere con l'asso di spade tu mi dimostri sono sincera si mi ha fatto conto troppo bella fuori ma dentro invece adesso nel futuro c'è il match perché tu ti stai cominciando a rendere conto che non tutto quello che è oro non tutto quello è luccica è oro le veste non fa il monico monaco siamo capiti no il ragazzo di denari per il cosa si può aspettare tre di spade nove di denari e il due di coppe sì che tante volte si può fare male con cose futili perché quando noi la vediamo chiara poi alla fine siamo un po' comodi noi perché abbiamo pensiamo di volere proprio quello e poi ci facciamo male noi stessi e quello lo stiamo cominciando a percepire cinque di denari e poi facciamo difficoltà come posso far lasciare come posso lasciare una cosa così bella fuori ma nessuno ha chiesto ma come era dentro questa persona ti ha chiesto qualcuno e tu dici no ma io alla fine devo farmi i cavoli miei dammi un consiglio per il mio scorpione sette di denari sette di spade e dieci di coppe sì sì e la torre di nuovo sotto il mazzo che dipende sempre a noi cosa investiamo se vogliamo essere sinceri con noi stessi perché quando le persone circostanze ci dimostrano per quello che sono siamo noi a decidere nessuno ci costringe a stare là nessuno siamo noi a decidere perciò le cazzate dette da noi stessi le cominciamo a percepire perché ci mettiamo alla nostra felicità ce la rimettiamo noi la nostra vita e la nostra felicità ce la mettiamo noi perciò non siamo poi noi a puntare il dito verso gli altri e dire per te no o quello che è no ci dobbiamo puntare verso di noi Scorpione buon Natale a tutti quanti a te e la tua famiglia come già detto sembra quasi alla romana no ma per carità ciao a tutti buon buon Natale veramente la tua la tua famiglia i tuoi amici all'amore non l'amore quello che è quello che te pare noi ci vediamo live vado in diretta tra Natale e Capodanno vi faccio sicuramente sapere Scorpione godetevi questi giorni festivi un caro saluto dal lato dell'uana vi voglio tanto bene ciao ciao